è molto rischio puoi farti vedere qui c'ho l'idea cosa, c'ho il carrello, c'ho i soldi no beh, ormai siamo già qua dai, proviamoci adesso è l'unica cosa a prendersi un'altezza oh, ho pingato, ho pingato qua sopra ah, è qua, è qui ti stai arrestando, ti stai arrestando, ti stai arrestando ti stai arrestando, ti stai arrestando quello sopra lo stordino nel mentre sono sceso giù a conformare l'alto che roba che gli ho fatto, cazzo aspetta che mi metto va bene, amico grazie per il like, amico come stai Gabriele, l'hai vista la kill su questi qua, poverini quanti ne ho? ma io prendo uovi due e puoi prendere due uovi in sorvolo vediamoci qui dobbia, cazzo, risalendo non so se sono, mica l'elicottero pure scendo un secondo un pochettino più l'autonomia U avviene da uno qua non è un nemico? no, cazzo ah, ma dai, oh no sono sceso, sono qua è sopprime cazzo, ma da dove è arrivato? non so da dove è arrivato, ma il nemico è in discesa e mi ha distrutto serve una ricognizione sull'area minchiappare che di questo caso sono salite adesso ah sì ci sono nemici spiegato 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 le armi ma il gulag mi ha distrutto cosa sono le armi del gulag? autonomia U avv esaurita dentro alla base proprio presa di mia adesso no, vabbè, però se io gli vedo solo la testa non posso hitarlo no, però non posso cioè io, io gli vedevo gli vedevo solo un pixel della testa io non posso hitarlo io ho fatto una bella giocata addosso al flash non sopravvivi e riavrai la tua libertà però non avevo più colpi dimitrino ovviamente un caricatore da 71 non aveva 40 48 non avevo più colpi avevo provato a tirare di una coltellata bene dai, l'avrei buttato a case dai, smile ma questo caso da dove è arrivato? ma veramente se non si è trovato addosso così io non avevo manco il timing sono usciti in quel momento lì io anche sto saltando giù l'ho fatto al volo infatti sono finito di sotto e non è sceso subito e non mi ha finito subito eh, meravigli grazie per il like come stai? non puoi piaci fare altro? stiamo in due ora è fuori i safes non so io vorrei riprovare ad andare il mio pennello io questi qua non so non so eh e se io qua adesso cercherà penso soldi per restare magari abbiamo tempo per riprendermi la roba se vuoi c'è il senso vicino a me qua dove ho ucciso gli altri la roba ce n'è no al massimo la rimedio e le saltiamo no ci sono molto più o meno lì aspetta aspetta che c'è ancora gente mi sembra si sono proprio qua cazzo attacco il tiratore e anche un altro anche due flyer qua che sfiga abbiamo anche due flyer lì questi rimangono in zona attacco il tiratore oddio buono questi non abbiamo neanche il timing di prenderci le armi di nuovo allora uno si è buttato guardiamo un po' se si è buttato anche l'altro Sky si è ributtato anche il secondo provo ad andare a prendere le armi aspetta mi sono tuffato un po' prima per non far sentire il fatto che siamo arrivati e attenta anche te magari oh ha fatto un pallone esatto fatti vedere e mica visto attacco il tiratore ma non so c'è qualcosa ancora Marco un fucile d'assalto si sparano eeeh se vuoi prendere degli scudi magari ho visto del denaro bella alex grazie per la condivisione super come stai? abbiamo fatto una nazione clamorosa clamorosa non ho mica colpi dimitrino per caso non trovo zero per apropolare una scarica eeeh te ci sono 3 questo si è bene 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 è sicurato perchè io non sono rompita vicino e non riesco a sparare sì 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 ne erano ovviamente perchè ce l'ho 60 e 30 così almeno dobbiamo anderceli qua davanti io io non so neanche si è provato a riprendermi le mie armi in teoria sono qua sotto ma in teoria secondo me se l'ha presa lui perchè mi sembra di averle visto tutto bene dai un po' distrutta ieri sera ma tutto nella norma cos'è combinato ieri sera cos'è combinato è questo che spara? ah l'elicotteri uovi nemico attimo qua sotto dimmine qua sotto dimmine qua sotto metta marcata ma qua ci possono salire un po' dappertutto oh ma che cazzo di cazzo eh ma dove cazzo è? ecco qua 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 siamo paura di questo sei in due nooo no no un altro ma basta questo qua è di nuovo quello di prima no non c'entrava niente è arrivato dopo ma infatti lì non mi piace perchè ti arrivano alla fine e te non li vedi in pratica se andiamo invece sulla collina siamo siamo avvantaggiati diciamo li prendi prima ma no me lo dava molto più in basso questo qua in secondo aveva fantasma questo è da solo guardalo questo è da solo era camperato lì fermo bello bello fabrizio grazie per il like buonasera ragazzi eh dai ma dai la prima di riscaldamento ci sta dai qualche... qualche numerino l'abbiamo fatto dai due team da due le abbiamo distrutti dai nella roggi grazie per il like cosa cazzo hai combinato alex sono ancora lì che ci sto pensando bevuto come un dannato il bevuto 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 per le due settimane che non hai fatto niente tutto hai dato tutto in una sera qua non ce la trova ce l'ha trovata invece ce l'ha trovata sto uscendo poco ultimamente ma perché lavoro cose stanchezza come mai per guardare ridica giocare bevuto a 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 non capisco che siano finiti questi due qua a sto punto a 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 l'elicottero il compagno era quello dell'elicottero c'è arrivato questo qua dell'elicottero c'è arrivato questo qua dell'elicottero c'è ci si è lanciato l'elicottero ma che paura di caschi lì praticamente non ha aperto quel momento lì ha aperto io non ci credo veramente che in quel momento lì che siamo arrivati noi questo qua ha preso il pallone dalla parte opposta è arrivato nello stesso momento ci ha distrutto quello mi sono tornato di snipe perché magari se l'avessi preso hs mi accorgevo che mai sarebbe male pazzesco ecco che combattono preparati si è venuta il tuo alleato ma io non mi sento facile da niente no da male oddio non l'ho visto io guardo sempre prima lì ah si è messo nell'angolo guarda non l'ho visto io guardo prima lì se non vedo lì guarda al centro se non guarda al centro guarda a sinistra se non c'è il pusho lo spawn sempre così cazzo non l'ho non mi era mai successo che si mettesse nell'angolo e col timing non riuscissi a vederlo che non stai proprio morendo cazzo che non stai proprio morendo cazzo eh se ne faccio l'ultimo ok non sono vattato non sento niente quando sparo sento che mi rebomba nella testa ok 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 Grazie a tutti. 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 A noi non ci conviene prenderlo qua. Buavì, nemico attivo. Buavì. Buavì, non è un flyer. Ok, va bene. Niente. Oh, c'è uno. Oh, c'è uno. No, c'è uno. E' un'altra, c'è uno. E' un'altra, c'è uno. Un'altra, c'è uno. un'altra, c'è uno. è un'altra, c'è uno. E' un'altra, c'è uno, c'è uno. C'è uno, c'è uno. C'è uno, c'è uno, c'è uno. C'è uno, c'è uno, c'è uno. C'è uno, c'è uno. C'è uno, c'è uno. C'è uno, c'è uno. C'è uno. Vabbè. Questo era quello che mi sparava prima da dietro, non mi so. Oh, c'è un flyer qui sopra da me anche. C'è uno, c'è uno. Eh, io lo prendo in real, due, perci. Aspetta che mi sfondo. Eh, veramente. C'è uno, c'è uno. Non so, non mi ha dato più mai nient'ato, quindi potrebbe essere c'è. Un paio da qualche parte. Però ha preso il pallone, quindi potrebbe anche essere sotto in realtà l'altro. Non so, 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 non so quindi io l'ho ucciso prima l'altro non mi ha dato di man... ah non mi ha dato di manentrata anche prima a questo punto saliamo uno schiaffo in the face anche su questo comunque ragazzi stanzione cassa in avvicinamento nuova zona sicura massima attenzione è scomparsa la taglia che c'era qua eh è scomparsa la taglia che era lì sotto dietro puoi guardare a prendere lo stesso quello no? eh come vuoi si si potrebbe anche andare a prendere lo stesso però andavo a vedere se riesco a vederli mentre salgo è che magari ci dà la controttaglia eh siamo fortunati adesso l'attento l'obiettivo è eliminare il bersaglio l'Iperion c'era uno francese tutti hanno avuto i quattro che si chiama l'Iperion era fortissimo io non sto diventando... oh è un flyer forse eh? ho un contatto no no non ce l'ho davanti l'hanno uscito un altro degli altri l'hanno uscito mi sa che c'è gente qua eh dunque sento sparare... storage cazzo c'è uno davanti chitatissimo non ci credo ma cosa ci faceva questo qua? era anche scarsissimo se non avessi avuto lo Sniper mamma mia questo è il Gulag sopravvivi e riavrai la tua libertà presto sarà il tuo turno soldato non so però se riesci a coprire solo le armi che prova non ce l'ho ma dai ma come è possibile no no io devo staccare c'è un 1568 due anni boh vabbè dai io ho diventato acquitto così qui per il tanto lo giuro per spaccodire un pune mezzattino nello schermo è senza senso questa cosa ma è senza senso ma io sparare tu e Guainitti io continuavo a sparare ero Guainitti io continuavo a sparare ma io continuavo a sparare 60 colpi e continuavo ad essere Guainitti non aveva delle steam mi ha tirato una stordente e mi ha ucciso con tre colpi di Grau avevo quattordici colpi ne eri posto e me l'avevo ucciso quindi ne ho usati sei e non mi ha preso in testa ma come cazzo è possibile da dove ne è uscito dai cespugli ma infatti mi sono rimasto troppo male Alex perché boh ho avuto culo perché molte volte quando corro così uso il mittrino perché se dovessi trovarmene uno così invece ero tranquillo risolvi con evitare porti o catturano obiettivo non hai avuto libertà ti farò che ho da mie sto penso che ce ne è fattissimo eh però adesso io voglio andare a storage e uccidermi sto tipo qua sì che posso arrestare qua il vittore è marcatto non apri quanto mi riguarda il vittore c'è lo vuoi quando lo puoi 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 sparano sopra storage c'è un cane che abbaglia oh rifornimento tutto da fare quindi eh E la notte è arrivata Oh c'è uno qua E' di nuovo lui la schiena è lui E' sopra qua E' tantissimo Dammi i soldi che proviamo a prendere Un coso del... dammi i soldi Prendo un... Un UAV delle armi Così magari vediamo Dov'è? Come si chiama? Ma non c'è la presa Ok vado a prendermi le armi E' la sua Io vado a prendere due ore Magari io ti lascio questo Questo VPSH E' il Grau E' qua eh Oddio ce l'ho tutta davanti No vabbè dai Di nuovo Di nuovo due Così Io non lo so Non voglio commentare neanche Sono tutte e due lei ancora dentro la casetta Io non... Però scusa anche adesso Spiegami quanti coltivi ho tirato Eh non vedevo io Io ero ancora in voce Cioè ma quanti c***o Bella Mirko Grazie per il like Grazie mille Buonasera Mi sa che non ti sentivo più Era fermo Era fermo Mi ha sparato tutti i colpi in testa Qui si è alzato il Grau Mi ha sparato quattro colpi Mi ha messo a terra Ma che c***o c'è il Grau? Scusa ma mi ha fatto qualcosa Due volte mi ha ucciso In maniera assurda Io guardo due Sono morto due volte Con gente a un metro Che non si sono sentiti Io però Io stacco Non sono in grado di giocare Perché sono proprio Si scompuso dalla testa Mi ha mal di testa a giocare Quattro comuni anzi Magari domani si ripiglia un po' Un po' più Abile Quattro domani penso di nuovo Che Serena Sarà Vabbè sì Non c'è Serena Ma Serena arriverà a mezzanotte domani Povera Cristo Eh sì Esatto Dai Overaggia Io C'è idea malata Esatto Esatto Ciao Chris Ma chi malata E via di che non stai bene Ciao Chris Ciao 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 Peccato Perché comunque Stava uscendo un bel Nuovo campione di caldera Provia Che sfiga ragazzi Comunque Due volte Tutte e due Nascosti Io Non so Che cazzo sono usciti Tutte e due Che sfiga Cercando di sopra Ti vedi tu bloccata Sopra l'ho sbloccata Grazie Ogni tanto Si frizzano Sti cazzo di affari Io non so Io non show Vediamo un po' se Ah io l'altra volta Ho whainato un po' Perché mica Mi son tuffato Ho ucciso uno Ho ucciso lato Mi è arrivato uno Mi è ritornato un altro Mi è ritornato un altro E ho detto No Porco Dios Ma che cazzo è Vediamo un po' se riusciamo A non esplodere Pazzesco Qua dovrei avere già le armi Insieme Dovrei avere già le armi Sopra l'ho sbloccata Nel nuovo code cosa ne pensi Guarda Non sai che non sto guardando niente Mi capita ogni tanto sui tiktok così Però non sto vedendo niente Ho visto che hanno Hanno trovato un glitch Per cui si può Diciamo andare su Si può fare lo slide cancer Però per il resto Non so Sembra che sia Diciamo un po' più lento Rispetto a questo Per lo slide cancer Però anche questo all'inizio Sendo che non c'era Sto slide cancer O comunque non si era Trovato il modo di Diciamo Creare sto bug Del Che ti Dell'arma Che si muove di più Che ti toglie l'animazione Ti ridà il coso che corri Alla fine Non si usava all'inizio Inizio 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 Quindi magari anche lì Ci sarà qualcosa Che ti crea un movement Che ti fa andare veloce Ci sta anche cambiare Cos'è adesso Per sempre ci sarà sta cosa Alla fine Ci sta anche Comunque variare Però poi ho visto Anche la roba delle casse Adesso la mia paura Che non ho ben capito Anche dello zaino Cioè te se ti metti Tutto lo zaino Piene di siringhe C'hai la maschera C'hai il coso Dell'ossigeno E lì puoi stare un'ora Fuori dalla safe Cioè Non so Ci sono alcune cose Che mi spaventano Alcune cose che devo capire Ma L'ina di massa Sicuramente Ha cercato un po' di Sto cambiando Giù Massima attenzione Un nemico ti sta dando la caccia Cassa di scorte Marcata Prendetela Contrato aggiornato Nuovo obiettivo Ricognizione urgente Tu ha vinto il volo Non c'hai che non mi è pronto qua Uovì se ne trovano a BZF Vado via Vediamoci qui Eh Non è colpito più qua Autonomia UAV esaurita Rientro alla base Questa è un po' di sentire Non corro da qua Guarda che uno qui sotto Ce l'assicuro Ma no Poi via Poi via Poi via Sti direi capire Se ci vuole vizinno No non l'ho neanche visto dove cazzo mi va a sparare mi ha dato solo dentro un po' a caso sembra bello come innovativa molto che a vedere quando esce ma in teoria è il 16 novembre non l'ho ne sento in teoria è il 16 novembre poi oh oh sono ross hanno perso le tue tracce sei assicuro adesso sulla collina visto che era diventato rosso ma dov'è stato di sorella vincenzo è sempre il like una sera come sta vincendo e poi ho visto fatto alcune dinamiche tipo andare sopra la scena pistola se vai sopra un muretto per sparare con un po con la pistola quelle cose lì si sono carine però poi mica sono un po strane come dinamiche bisognerà vedere poi nel momento in cui lo usi se è fatto bene se c'è un ritardo nell'animazione se quelle cose lì ti creano sempre dei fastidi spesso meglio meglio non avercelo e piuttosto che avercelo quelle cose strane perché sento sempre passi di nuovo dei passi questo non meno di 50 nemici sono ancora tanto fallito male no 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 non me lo merito non me lo merito dai quanta gente c'è tutte su di me tutti su di me sono ancora tanto fallito che cosa che avevo fatto non ti è un problema che avevo fatto è stato di nuovo è stato di nuovo è stato di nuovo è stato di nuovo Grazie a tutti Grazie a tutti UAB nemico attivo Ricognizione in arrivo UAB in sorgolo UAB in sorgolo UAB nemico individuo UAB in sorgolo 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 dai proviamo a stare solo contro coppie andiamo a me va c'è comunque veramente trovo incredibile che io sono corso cioè stavo correndo andato verso quella casa là tirato stordenti ho fatto casino questo qua dove era ma perché non mi ha sparato dentro la casa cioè mi ha fatto tirare la stordente mi ha fatto fare tutti i vari slidecast non mi ha sparato trovo assurdo sta cosa se non ci fossi passato avanti da quella casa lì ci sono anche passato avanti è strano veramente se non ci sono su scherzi a parte non mi ha sparato avanti da quella casa lì bella 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 merda madonna qua non saprei dove buttarmi così a caso laggiù brutto fatto sto posto che non c'è niente non c'è niente non troverò un'arma non c'è niente non troverò un'arma Versaglio in capo, abbatteteli! Allora, siamo solo contro posti, eh? Allora, abbiamo troppo pioggia, la sniper non è mai suggerita. Devi essere pronti ad avere due armi, un mito, quando fischi i colpi spari con l'altro mito, il sniper non è proprio, è il massimo. Allora, luttiamo al massimo, se riesco a uscire il DC. L'alto di equipaggiamento! Ricognizione in arrivo! UAV in servolo! Il gas vi raggiunge! Ma non dove l'ho di qua? Perchè che ero contento, con l'UAV pensavo, non so. Prendo, vado, mentre vanno a prendere, niente. Autonomia UAV esaurita, rientro alla base! Non posso essere giocostati, questo. RICOGNIZIONE IN ARRIVO! U.A.V. in servolo! Mentre no... Ho localizzato un contratto taglia! F***o nessuno, sì! Non è che solo contro coppe si è riuscito a trovare gente. L'identità del bersaglio confermata! Buonasera! Autonomia UAV esaurita, rientro alla base! A presto, a presto, a presto! A presto, a presto, a presto! A presto, a presto, a presto! A presto, a presto! A presto, a presto! A presto, a presto, a presto! A presto, a presto, a presto! A presto, a presto, a presto, a presto! Cazzo! Posso sparare anch'io? Quello è un flyer? No, magari... Vado qua, dove si parla dalla nostra shop. C'era quello di là... Ma che cazzo? Vediamo l'avimento un bambino, rientro alla base! Che caso splanze? Qui c'era quello di là? La gara è arrivata a me Non è neanche tanto bene dove l'avevo preso l'odio Ho preso l'ompo Non ci sono più sui tizi Alla nuova zona sicura Gas in arrivo Niente rega E' allucinante Non si riesce a trovare nessuno Bella George Non si riesce a trovare nessuno Uno verso due Bella George Era buono quel drink che hai bevuto Era buono? Attenzione 45 stelle Grande George Thank you very much Il problema è che sono uno contro due Solo contro coppie Vieni va a giocare Va maledetto Solo contro coppie Non ho ancora trovato nessuno Ho tirato tre uovi Ho vittato due da Putemburgo Ho vittato i bianchi Vado a prendermi Quinto UAV Ma non serve Ricognizione urgente Attenzione Attenzione Ho piccato uno rega C'è una Un problema emozionato Rega Posso essere emozionato Niente Sono andato alla parte opposta Dove sei ma gli alieni? Autonomia UAV esaurita Rientro alla base Guardo stacchi e poi stacco Ma eeeh Quale kill? Quella del Gulag Guarda questo dove andato Guarda questo dove andato Dai io ho Lui continua ad andare dritto Dove va lui Lui che va No va a prendere l'altro pallone Dai su Ma gioca e spara Mi fai qualcosa No dai Sto impazzendo ragazzi Sto letteralmente impazzendo Ma come cazzo è possibile Che non c'è nessuno? Non c'è nessuno E due ore che corro Non c'è nessuno L'unica taglia che ho Ho preso due taglie Una me l'hanno uccisa La seconda me l'hanno uccisa La terza è scappata col pallone Ma che cazzo di partita è? Ma che cazzo di partita è questa qua? Ma stanno scherzando A parte che si è fermato lì Subito via Andiamo La partita più strana mai vista Prima La partita più strana Basta muoverti No 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 Oh Me l'hanno ucciso Mi sono stato troppe volte Se sono open Nella Mi spara qualcun altro Io non ci voglio credere prima kill te l'ho fatta te l'ho fatta non ci sono excuse nel nulla sono ma perchè mi da tutte le taglie a potenburgo ne voglio una vicina serve una ricognizione non ne ha la famo a fare un UAV questo sarà il quinto UAV quinto UAV non ho pingato ancora nessuno eccolo l'ho collata è lui è un flyer c'è un soldato nemico a si n'arrivo auto l'ho a via zaurita rientro l'ho si è un soldato nemico è un soldato nemico sono ancora in gioco scusate uno ha arrestato non ci sono ma uno c'è ancora è tornato alla normalità è tornato a due voti e ti mani intanto la taglia in tutto questo è ancora suo senza un senso attenzione io voglio prendermi questo qua questo è il camion è lui come fa a scendere il camion così? dimenticate quello che ho detto ma è qualcuno che lo sta guidando spero ferma torino cerca di coprire le tue tracce sei la preda di un team nemico sono due non è di nuovo la taglia questo ma forse la taglia se mi arriva il camion contratto fallito tempo scaduto non tutto il game non ho trovato nessuno li ho trovati adesso tutti addosso al mio la mia visuale ero già dietro al muro veramente veramente da impazzire oggi qua adesso c'è Peppe adesso c'è Rebel penso che Rebel però a quest'ora ha acquita a quest'ora ha acquita a quest'ora a quest'ora è che ora ho ha acquita mi 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 Giorgio, Giorgio, vieni a pescare con noi. C'era il buon Roger che mi ha quittato, c'era Peppe che in teoria doveva esserci con Simon e gli altri. C'era Roger che anche era, non so se l'avevi visto, sentito, vincere, era proprio cotto come una mina. Stiamo andati su weekend insieme con la sua bimba, con la mia nipote, mia ragazza e mia sorella su Amurazzano che c'è tipo una specie di safari, però tra una cosa e l'altra erano morti. Lui non so, adesso c'è anche un po' raffreddato, così così, è mezzo morto, mi ha abbandonato. ne faccio una o due e vado a nanna anch'io. No. 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 No, 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 no. ah è pagato farei believe fortune skip solo che non c'è solo quarteti io voglio fare singolo arrivo ragazzi non sarò nel bagno grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti per Preparate l'attrezzatura, manca poco. 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 Poca piena. Preparate l'attrezzatura, manca poco. Preparate l'attrezzatura, manca poco. Preparate l'attrezzatura. Preparate l'attrezzatura, manca poco. Preparate l'attrezzatura, manca poco. Preparate l'attrezzatura, manca poco. Preparate l'attrezzatura. no dai ma perché non spari all'altro io sto incominciando in nervosia prega ma che spara all'altro ma che cazzo mi spari a me l'altro è open completo un soldato nemico ma dai il colpo c'era raga ma che cazzo un soldato la prossima volta vinceremo noi rientrate alla base mi piace proprio questa modalità porco diaz continuano a volarti la gente addosso e c'è lo sniper bene se avessi un mitrone li dritto tutti mentre scendono così porco diaz ma si fa fatica questo dovrebbe essere un po se arriva il buon fede io voglio giocare da solo in sta modalità del cazzo se vuole entrare qualcuno a giocare grazie 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Prepararsi al lancio sulla zona di guerra. Ritorno. Tutti nella zona sicura. Il gas si avvicina rapidamente. Sopravvivete per far rientrare i compagni uccisi. Ottenete punti con le vostre azioni per farle tornare più in fretta. Arrivando dentro! Fate piazza pulita dei bersagli. È una cassa di spazio. Mi sparano! Restano meno di 50 nemici. Sopravvivete. 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 Sopri. è un soldato nemico i rinforzi sono in arrivo un soldato nemico nell'area un soldato nemico ucciso un soldato nemico 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 Tassa di scorta è identificata, arco la posizione, i tuoi compagni sono morti, resisti fino al loro rientro, membro della squadra in rientro. Porco diizio. Posso andare a rientrare? Approvvigionamento avvistato! Stazione medica qui! Arrivando un nemico, attenzione in alto! Un tuo alleato è appena rientrato! Nemizi nell'area! Nemizi nell'area! Contatto! Tuo nemico attivo! E' appena rientrato! I forzi sono in arrivo! Stare l'altro il nemico! Attenzione in alto! Stassi in arrivo! Nemizi nell'area! Dopi il nemico attivo! Sì, sono sotto a tiro Fondamento di precisione nemico, giù Fondamento di precisione nemico Nemico in arrivo nell'area Membro della squadra in rientro Cassi in arrivo, c'è una nuova zona sicura Cosa vedete? Cassi, esce le restazioni di acquisto ritocchiate Ti hanno colpita Ritorno sta per finire testa ben piattata sulle spalle speriamo che resistano perché ti sono morto una volta resisti my friend questo ci muore in volo che cazzo questo ci muore in volo una difficile cosa vediamoci qui alla zona sicura cassa di scorte disponibili membro dello squadra in riesco obiettivi trovati alla prossima testa ben piattuto ci sono la zona sicura nemico in marello nell'area nemico attivo nemico ci sono ci sono in movimento ignorate quello che vuole corazza qui provo a salire rega che comunque noi siamo in sei cioè cinque arriva il gas marco la nuova zona sicura sono rimasti cinque fantastico fantastico gg guys gg guys gg guys gg guys gg 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 di gg 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 dc gg cg gg 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 Tutto ha un po' un delirio Però poi dai Sul finale Meno male che sono salito su Ho aspettato un po' che fightassero I miei compagni fondamentali Di sotto Vabbè dai Meno male che sono salito su E si è una tratta subito Attenzione Omar 10 Injector Yahika Yahiki Yahiki Controllate l'attrezzatura C'è tempo prima della missione Noo non mi sono messo Ah ho detto di mettermi il Il PPSH E automaton E niente C'è di nuovo C'è di nuovo St'arma guerra E il grau C'è di nuovo C'è di nuovo C'è di nuovo Stai vicino con gli stranieri Sporzare la fortuna Esatto Ficchia Comunque è C'è stato un momento Che stavo facendo una resistenza Dentro a sta casa Continuava a salire Scendere 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 Giù Su Giù Su Meno male che ho preso Ho trovato subito Se due armi Il PPSH Viola E l'arma Cos'era No forse non è un MP40 Sempre Viola Fate un po' di resistenza Così Poi ho fatto L'oddio Ho fatto tutto sto casino Io lì Da un killado e la win Dai Mi chiede anche Zote Voglio andare Qua trovato un punto Qua dagnate punti Per far ritornare Preso Massima Attenzione Il nemico Ti sta tanto La cassa Fate piazza pulita Della piazza 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 Nella vostra area Siete ancora In 50 Cos'era Dove Dove Ha Pingato qua E maledetto Il nostro Ricerca in corso Miglioriamo l'attrezzatura Mi ricerca Rientro alla base Uno Un Biola Un Attenzione Un 巨ud Un 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 Voglio un attacco aereo qui Guardamento di precisione Qui, Phoenix 3, attacco in corso UAB alleato in fuoco Datemi la caccia UAB nemico attivo Nessun nemico colpito UAB nemico attivo UAB nemico attivo Hai seminato i cacciatori nemici UAB nemico attivo Un tuo alleato appena è entrato Passi in avio UAB nemico attivo Un tuo alleato appena è entrato Un tuo alleato appena è entrato Il tuo alleato è appena rientrato Ho visto del denaro C'è roba da prendere C'è roba da prendere Vieni con qui, serve una ricognizione sull'area UAV in salvolo Voglio un attacco aereo qui Qui il Minix 3, attacco in corso Lancio di equipaggiamento in arreo Autonomia UAV esaurita, rientro alla base Nemico illeso, ripeto, nemico Un tuo alleato è appena rientrato C'è un soldato nemico Gasse in avvicinamento Nuova zona sicura Forse noi usano un elicottero di rinforzamento Non c'è un soldato nemico Ah, c'era l'altro, mi ha sparato Non mi spiegavo che mi aveva sorgito così una ciamina Non mi ricordo che c'era No, non si è lungo Quante è così che mu- Ritorni in campo! Forza, va e vissati! Bersaglio in vista! Bersaglio in vista! Bersaglio in vista! Identicate quello che ho detto! Abbi la torta! 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 Uabili! Abbi la torta! Sera a settembre, ne restano solo 25! Ragazzi, a prima di provare il lancio, C'è mille persone! Tò a provarci! Ma devi morire così! Bello il ritorno così! Vabbè l'ho sparitato! Fai una mica quando poi muori! E non riesci ad entrare in rinno di noi in partita! Adesso lo di solitore! Muori e poi muori! E' uno strazzo! Che va bene come una paeta di più! Io ho 3 di tutti i voli! Fai di qua di là! Questo vuoi! Questo vuoi! Qua tagliere non devo sparare la culola! Non è vero! Grazie. 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 Arrivando un metro. Attenzione. Grazie. Mi sono entrati in via davanti, cazzo. Che tonno. Io non conosco bene la nota, eh? Saprà un mobile, cazzo. È vero che non la conosco quasi molto. Conosco più forte. Ho giocato molto di più Fortuskip. E voi sapete quanto gioco Fortuskip. Molto, molto più Fortuskip. Ritorno. Attenzione al gas. Andate nella zona sicura. Sopravedete al punto alla rovescia. Ritorno per rischierarvi. Ottenete punti per accelerare il... Sta arrivando un nemico. Attenzione. Sopravedete. 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 Oh no, mi cresce da Oh no, mi cresce da Oh no, mi stava tritando con la pistola Con tutta pistola Attacco in corso Lancio di equipaggiamento in arrivo E tra gli ultimi venticinco, avanti così Bersaglio rimosso Gas in avvicinamento, nuova zona sicura Attenzione in alto Oh no, mi cresce da Scusa Scusa Com'è possibile che mi hai distinto così, rega? Rega, ma l'avete visto quello là? Che mi ha fatto a riparmi così? Ma gli stavo sparando anch'io, rega Cioè, gli stavo sparando, rega Ma che cazzo dici? E che a 12 secondi? Oh no, non si ripeterà 4, 1, 2, 1 Oh no, appena sparito lo scioccolò Oh no, appena mi scuola, direi Oh no, maw, maw, maw attacco a grappolo nemico al riparo attacco in arrivo nell'area passi l'avvicinamento, nuova zona sicura passi delle stazioni di acquisto riparo passi l'avvicinamento, sottotitolo passi l'avvicinamento, attaccato passi sottotitolo passi l'avvicinamento passi l'avvicinamento Se zniper mi trita da slovo Amico in arrivo nell'area Il gas è sempre più vicino Mi vincere Sì I I NEMICO IN ARRIVO NELL'AREA RIFORZI DISATTIVATI Alla nuova zona sicura, gas in arrivo. Scansione e occupazione. Sdraiarsi è l'unico modo per non farsi rilevare. Lotate o pugniche! Adesso sanno dove sei, attenzione! La scansione ha mostrato dei nemici! Attaccateli! Scansione terminata! Tornare alle procedure operative standard! Cosa c'è un cuore? Dice! Il gas è sempre più vicino! Ultimi cinque, resisti io all'ultimo! Nuvi c'è un cuore! Si sello prezzi? Noi! Noi! qui risultate che c'è ancora uno sotto di me cassa in avvicinamento nuova zona sicura forse è lì dentro arriva il gas la nuova zona sicura non avevano alcuna possibilità un bucas bella 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 si vola rega si vola gg gg cazzo gg madonna ho fatto alcune mate di mitrone mi mancavano gg guys gg not bad questo mi sono divertito è andato troppo bene tutto troppo bene tutto troppo bene però c'è stata l'unica volta che quello la mi ha atterrato giù rega che ero sopra che io lo stavo uccidendo si è girato hs mi ha distrutto io quella cosa lì non l'ho capita e l'hai vista alex gli stavo già sparando era in corsa gli stavo sparando non lo stavo messando questo si gira mi distrugge ma che cazzo di arma aveva lì sono rimasto scioccato non mi ricordo il nome ma mi sono rimasto scioccato e fa uccidermi in quel modo di rega è impossibile l'hai vista te alex con la kill lì senza proprio un senso logico cioè non ho capito se c'era qualcun altro che mi sparava perché sono morto troppo velocemente io ero tranquillo pensavo di vincere il fight in tranquillità in un shalance proprio nel momento che ho visto che mi ha ucciso ho detto boh ma cazzo è possibile cazzo è possibile oh dai l'hai riportata per la vita abbiamo scoppiato i 22 bombe l'hai riportata per la vita infatti pensavo che usasse qualcosa ma ti dico a me non lo so ci sono da pc ci sono quelle armi quelle come si chiamano i magnetic bullet che praticamente puoi mettere il fatto che te ovunque hiti in realtà hiti la testa e mi viene da pensare a quello nel senso tutti i colpi in testa potrebbe potrebbe vincere l'all fight in quel caso lì ah l'ho hitato però 153 un po' l'ho hitato è proprio sciolto mentre saliva lì boom finito morto io non so mi sa che è quello che poi ho ingaggiato dopo quello ho ucciso ma quella scherzi tipo la l'interno di avviamento ritorno io ho visto una volta che era proprio notturna notturna ma così non è anche quasi piacevole non è anche un po' non è anche un po' non è anche un po' ma io poi non so proprio sono messa male stavo per salire sopra la mina sono saltato da qui so nemico in arrivo ho finito stavo ingaggiando col tappeto pollerino pollerino c'è un soldato nemico c'è un silenziatore c'è un soldato c'è un soldato faccio di equipaggiamento gas in arrivo c'è una nuova zona sicura faccio di equipaggiamento per voi siete in 25 nell'area operativa sono un coglione sparagli prima di fare sta cagata perché ho fatto sta cagata ragazzi pensavo al fatto di come si fosse con il team per cui prendere l'odi e non c'è non c'è che era non c'è 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 sta arrivando un nemico attenzione in alto vai Riccardo vai Riccardo non mi avessi abbandonato Riccardino va bene Riccardo il globo pronto non sembrava che si potesse sta arrivando un nemico attenzione in alto massima allerta ritorno sta per finire tagli terminati prezzi tornati alla normalità uobini delico attivo 3 gas vi raggiungo 3 gas vi raggiungo non è più che lavorare parca dios è ancora iniziato nemico in arrivo nell'area Ritorno non ho più disponibile Cassi in arrivo, c'è una roba di vettura E' rimasto in dieci, forza A presto con coro, il polo Garo Non c'è questo c'è un pochardo no, no, che ruolo che Grazie a tutti. Ti restavano meno di dieci nemici. Oh dai. Non ci credo. Ma stava adesso stare giù. Oh Dio, non so mai una gioia. Devo aspettare un secondo. Non so rega, io mi sa che... Che quinto guarda, oggi... Così un solo dopo un po'... Meno un po' le palle. Per un po' c'è stato Roger, poi ho fatto un po' di solo. Di qua di là. Ma batterò gli altri, c'è sta modalità che proprio non mi piace. Campione di caldera, proprio... Non mi piace. Ah mi sa che è quinto rega. Così per una volta magari vado a dormire un po' prima. Sono riposato e domani sera dovrei... Dovrei nerdare. Meno sono un po' più... Un po' più sveglio. Direi che faccio così. Pare che è morta anche la fotocamera. Molto bene. È morta, non play. Non posso dire, ci resiste... Ho preso il tempo proprio di salutare. Eccoci qua. Ragazzi vado a dormire io. Ci vediamo domani comunque, eh. Ragazzuoli, mi raccomando. Bala, Riccardo, mi spiace che sei arrivato e vado a dormire, ma... Almeno domani siamo... Siamo belli caldi. Ragazzuoli, vi saluto. Buonanotte a tutti, ragazzi. Fate i bravi. E domani, mi raccomando, dovete esserci tutti. Tutti, tutti presenti. Ciao ragazzi. Buonanotte. Buonanotte. Buonanotte.